Vedo ancora dei mattoni in giro, dovete muovere le spalle, vediamo Tutto il giorno con quattro i bamboni, i preganti e i bamboni, i gornati alla cina Tutto l'ora che sta vede in sia che svuotami, non c'ho la figlia con me Ma alla fine mi sento papà, mi svoltono e mi leggo il giornale Mi consiglio il mondo Raffaele, mi spieghi che pensi e bevimo caffè Ah che bello caffè, pure in carcere un anno fa Caricetta che ci ci viene alla compagno, ti sono già data mamma Ah che bello caffè, pure in carcere un anno fa Caricetta che ci ci rinnella, compagno di scala, precisiamo Prima pagina, vetti, notizie, venturi, giustizia e lasciata che fa Si costerna e si indigna, si impegna, poi getta la sboglia con calmitità Mi cervello mi asciugo la fronte, fortuna c'è chi mi risponda Quello non certissimo e mezzo, che dà il consenso, torro a fe Ma non come che tieni, sei pilli già dato alla cazzetta, non consiglio Assessore che Dio lo perdoni, che dentro la lotte giorni vivi su Tu vi basta una mozza, una croce, e sotto Cristo si leva una croce Caricetta che si è fatto nel treno, vuoli da un tremuto, vuoli due caffè Ah che bello caffè, pure in carcere un anno fa Ah che bello caffè, pure in carcere un anno fa Caricetta che c'è ci viene alla compagna di genere precisamente Chi non c'è più del coro, le carceri d'oro, ma chi che l'ha mai vista chissà Chi si è soffatticenti, per chi si mettevi, si tengono l'immunità Torro fai, voi politicamente, io ve lo giuro sarebbe un santo A proposito di te che non frate, che da quindici anni sta disoccupato Chi ti ha fatto cinquanta concorsi, novanta domande e duecento ricorsi Tu che date conforto e lavoro Vi bacio e vi imploro Chi le dorme cu mamma e cu me Che crema d'arabia, che chissui caffè Grazie mille! Grazie a tutti, Gianluca Devi, grazie